LUC 4316 Le loro dimore Guardate quanto hanno costruito stamattina Qui abbiamo creato noi hop Alberi di diamante, carbone, oro Tutti i materiali E si sono sbizzariti a spaccare tutto Giusto per divertimento Meloni, torte, abbiamo messo di tutto Starò laggando ragazzi Ma è Camtasia E poi il server è aperto Per cui ripeto la gente ha iniziato a costruire E oggi è stata una giornata tranquillissima Si sono veramente divertiti Spero sia, lo continui così Sono entrati addirittura dei griffer ragazzi Sono entrati Ci hanno provato all'inizio Ma poi si sono messi anche loro a costruire Per cui mi fa molto piacere Ora, eh, volevo farvi vedere una cosa Abbiamo creato una specie di città Si ragazzi abbiamo fatto una cosa veloce Dai, ma non adesso Abbiamo fatto una cosa veloce Guardate Giusto con dei lotti Che i ragazzi si potranno acquistare E creare le loro case Wolf Minchia E... Cioè se io rifiuto Vuol dire che non posso, no? In teoria Allora Ora li teletrasporterò tutti qui Se mi ricordo il comando Allora Slash TP All Ok Ho teletrasportato tutti i player Sono in pochi Perché la gente è nata a mangiare Prima eravamo in molto, 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 molto tanti Ok Ora li dirò di salutare YouTube Vediamo se rispondono Salutando Ok Stanno rispondendo E... Ragazzi Vi aspetto ancora in tanti Per cui Chi non Chi non è riuscito ad entrare Ci riprovi E un'altra cosa Creerò altri gruppi Per cui Darò modo ad altre gente di entrare E io volevo dire una cosa E... Ho amaci Ve lo faccio vedere Ve lo faccio vedere Con tutti i gruppi pieni Guardate Tutti i gruppi pieni Però di persone Ne entrano to 30-35 Per cui io dico Chi non riesce ad entrare O chi è entrato in amaci Ma non ha intenzione di entrare Se può per favore Lasciare il posto Magari ad altri Che hanno voglia di giocare E divertirsi Per cui Per favore O se no ragazzi Entrate tutti Però Non so perché Ho la lista di amaci piena Ma nel server Ne entrano 30-35 Comunque sia Spero che continui così il server Per cui lo lascio ancora Qualche giorno aperto Poi vi aggiornerò E... Da Luke è tutto E anche... Da tutti loro Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti.